Quindi fanno tutto, scrivono la storia, le tematiche sono tematiche sociali e quindi bullismo, cyberbullismo, legalità, 360 gradi, amore e amore per il territorio loro scrivono la storia e poi sono anche a cui interprete lì della stessa Grazie a tutti, auguri a voi e alla vostra famiglia, ciao! Facciamo un applauso, facciamo un suggerimento anche per il vostro Presidente Buongiorno a tutti, grazie per il video, un saluto a tutti i sindaci che hanno un ruolo per questo progetto e alla regione speriamo che continuino a crederci che il supporto ci vuole aver partecipato un saluto a tutti i ragazzi, lo sapete come si chiama la sala dove siamo ora? Alberto Sordi! Bravissimi, Alberto Sordi, voi avete visto i suoi film e come ha fatto a diventare attore, lo sapete, come ha cominciato? Lui era piccolo come voi e ha vinto un premio, il più bello del quartiere e sapete qual era il premio? Un abbonamento gratis per un anno intero al cinema e lui ha cominciato ad andare tutti i giorni, più volte al giorno al cinema a Roma nel quartiere di Trastevere dove viveva e a forza di andare al cinema tutti i giorni è diventato un attore è diventata una passione talmente grande che poi è diventato il suo lavoro ora, magari qualcuno di voi diventerà attore, sceneggiatore, truccatore, tecnico che qualcuno non ho, ma di sicuro lavorando a questi progetti con i vostri insegnanti e voi dovete ringraziare tanto anche i vostri insegnanti e dirigenti scolastici che hanno avuto voglia di vedere questo progetto, di lavorare con voi perché è molto bello, ma anche una partita avremmo lavorare con voi e nonostante sia finita la scuola siamo con voi stamattina a vedere i vostri film a ricevere il premio ed è molto bello che voi abbiamo deciso insieme quale storia raccontare di amicizia, di amore, racconto del vostro territorio e del ritorno della bellezza delle vostre città e di questo territorio e tanti temi importanti allora il signore al full movie 2017 il video è Marcia Maria di Marcia erano vediamo adesso bravo, stupendo bene, grazie ancora un applauso forte siete stati tutti bravissimi tutti grazie 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 grazie